e bello ragazzi sono neko verdok e benvenuti in questo nuovo video ed in questo video e continuiamo alla serie appunto delle missioni e dello sfascio a carrozze allora stavolta e faremo il furto a mactoni e punto le emissioni preliminari le ho già fatte e manca avviarlo insomma noi dovremmo avvicinarci con il sommergibile al sottomarino e appunto rubare e rubare la macchina che la macchina è la laissi rally quindi da rally quindi diamo il via al furto e all'inizio e vi dico già che c'è una c'è un viaggio abbastanza lungo quindi penso di di tagliare insomma il video allora così chiamiamo anche il buzzard e dovrò andare qui in fondo dovrò andare qui quindi che dire ci incontriamo lì ok siamo giunti al molo e in poche parole dovremmo salire in questo sommergibile che abbiamo rubato nelle missioni prima e andare qui è largo andare qui quindi anche questo viaggio è altrettanto lungo quindi non non credo abbia senso tenerlo poi magari quando ci avviciniamo al al sottomarino e insomma ricomincio dalla eccoci qua allora eccederemo dal moon pool e per chi non lo sa è appunto la pancia del del sottomarino e aggiriremo i controlli questa diciamo che la missione più noiosa per me di tutti i colpi perché è anche lunga quindi quindi adesso è iniziato il vero e proprio la vera e propria missione insomma adesso dobbiamo scaldare con la terza gas e rompere i sigilli però è insomma è abbastanza è abbastanza facile il più è scappare dopo adesso non ci hanno ancora notati ma ora ci noteranno dobbiamo per forza fare così ok si va a rompere i sistemi di navigazione e ok e la missione sarebbe quella di non morire mai per il per il bonus soldi cerchiamo di non morire proviamo e poi devo guardare anche quanti snack ho perché mi sa che ne sono rimasti molto 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 pochi vediamo ecco potrebbe essere un problema questo ora dovremmo trovare il capo della sicurezza e di solito da queste parti qua stavolta no però allora sta sopra se non vuole morire ok e allora è qui eccolo la per forza da andare con questo pompa perché è un sacco c'è già già il giubato antiproiettile guarda se mi prendessi i codici magari ok i codici serviranno poi per diluttare appunto il sottomarino bene praticamente il più è fatto ma è vero spero attento a non spercare gli snack e tenermeli per dopo se no non ce la facciamo non più per la missione del bonus ma soprattutto perché dopo se ci uccidono è difficilissimo ritornare alla macchina che stiamo trasportando sempre se non li seminiamo prima i poliziotti però è molto 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 difficile perché se non li semini qui dopo hai due elicotteri che ti seguono quindi è praticamente impossibile scappare ora lo faremo incagliare ecco qua e la macchina è nel posto in cui c'è l'elicottero di solito no ce n'è l'ultimo da uccidere anzi il penultimo infatti sta dicendo che sta arrivando a pula vai apri apposta e la macchina è questa la easy rally che non è neanche tanto lenta quindi non avevamo problemi di lentezza abbiamo finito eh adesso esco e speriamo di seminarli i poliziotti fin da subito eccoci qua ecco perché come vedete non è tanto semplice però fermi tutti no l'elicottero è spawnato ora della polizia non ce n'è non c'era quando è così no fine non siamo riusciti perché di solito ci mettono un po' funzioni non l'ho mai fatta però ora che ricordo anzi qua facciamo prima qui c'è una caverna caverna una cacchio dico una galleria e teoricamente vediamo se riusciamo a fuggire sempre non ci sia già gente che va e invece si niente era difficile mannaccia 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 mannaggia quanto danno ci siamo allungati un bordello comunque la strada quindi forse è meglio che quando arrivo quando arrivo e ci vediamo là insomma allora forse sta funzionando non ho mai avuto quest'idea mi è venuta solo ora e ho detto ma se ci nascondiamo dove passa il treno ci vedono e in teoria per ora la risposta è no forse eh allora passa ok perché se funziona faccio sempre così da oggi in poi in sta missione mi imbuco qua e basta eccoci qua viene a posto possiamo andare molto tranquilli nel chill alla destinazione vabbè dista sempre 6 km ma almeno non non siamo seguiti dalla polizia se mi incastro guarda meglio di no piano poi da rally ma i freni qua non ce li abbiamo e senza freni sta auto bene bene per fortuna ce li siamo tolti di torno ok ok eccoci qua finalmente ed ecco qua la macchina l'abbiamo presa adesso si riaggiusta e nulla e nulla comunque il nascondino bella trovata ecco allora capo della sicurezza trovate entro un minuto no perché era sopra e tutte le sfide completate quindi si poteva trarre 50.000 noi abbiamo tratto 20.000 perché appunto alcune missioni non le avevamo fatte quindi nulla spero che questo video vi sia piaciuto in teoria a noi manca solo l'ultima missione che è quella la Mad Bank Arena a noi quindi qui credo se non mi sbaglio e niente quindi appena trovo quella missione ragazzi ci farò su un video e se ci mancherà adesso do un'occhiata e nulla noi ci vediamo in un altro video e lasciate like iscrivetevi attivando la campanellina e commentate e noi ci vediamo in un altro video ciao